Non sei interessato. Perché non sei interessato al passato? Commento. Perché io vengo dal passato e non credo che il passato possa essermi maestro nel presente. Il passato è stato la creazione percezione dell'umanità che l'ha vissuto, mentre io ho bisogno di crearmi un'altra creazione percezione che è quella del presente.